con capitano Tobanelli allora innanzitutto felice di rivederti per questo duemila e ventiquattro iniziato bene un'ottima clivenza e quest'oggi diciamo anche con il mister un uno a uno peccato per quel tiro uno dei pochi che abbiamo segnato della Varesina perché poi la partita per almeno 60 minuti in controllo da parte della tua squadra. Sì assolutamente eh hai detto bene perché meritavamo qualcosina di più credo eh purtroppo abbiamo subito un gol e magari non abbiamo fatti altri noi all'inizio e per cui ci ci dobbiamo accontentare di un pareggio che secondo me come ho detto va un pochino stretto. Una partita comunque bella combattuta e forse con un po' di sparità di cartellini perché almeno quattro per la che viene solo due per la Varesina e forse ce ne stava qualcuno in più. Sì sì anche qui hai detto bene l'arbitro vabbè ha fatto le sue scelte eh però a volte poteva estrarlo un po' più spesso per per loro. Tu che sei tra i veterani di questa squadra eh come siete ripartiti durante già la la preparazione diciamo no invernale in questo periodo in avvicinamento alla ripresa e cosa vi siete detti per appunto questo 2024 questo girone di ritorno che ci attende? Beh abbiamo fatto durante i giorni di vacanza abbiamo fatto sicuramente una buona preparazione eh abbiamo cercato di mantenere il livello alto degli allenamenti perché comunque si sa che poi la ripresa è sempre difficile insomma riprendere bene però ci siamo riusciti e abbiamo fatto una bella partita per cui per cui bene dobbiamo solo continuare così che non è facile sicuramente. Testa desinzano sabato? Eh sì assolutamente. Grazie. Prego.